E' disponibile sul portale istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it nella sezione Dipartimento Agricoltura la graduatoria provvisoria dell'avviso pubblico con il quale attraverso i fondi garantiti dal PNRR ed una dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro specificatamente riservati alla sottomisura a modernamento dei frattori orari si punta a sostenere più in generale la filiera olivicola che per vocazioni identitarie e valenze economiche ed ambientale è da sempre essenziale per la crescita della Calabria Ieri un comunicato stampa emesso dall'Aggiunta regionale all'interno si precisa come l'accesso alle risorse fino ad un massimo di 400 mila euro per ogni progetto è riservato ad aziende agricole e imprese agroindustriali comprese le loro associazioni e cooperative titolari di frantoi orari con sede in Calabria che effettuino l'estrazione di olio extravergine d'oliva e siano iscritti nel portale dell'olio d'oliva del Sian così tutti coloro che rientrano in queste caratteristiche potranno presentare un'istanza di riesame esclusivamente a mezzo pecca entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo che da tempo aveva puntato e cercato di raggiungere questi obiettivi grazie a tutti grazie a tutti